Quello che saremo per vedere è ufficialmente l'episodio degli Schibli Toilet più assurdo di sempre! Non ci posso credere! No! Oddio! Oh oh oh! Il Giant TV Man! Oh madonna! È uscito 17 ore fa Schibli Toilet 70 parte 3 Uno degli episodi più ai patti della storia Soprattutto perché oltre a durare 6 minuti Sono passate oltre 2 settimane dall'episodio precedente Ed è tantissimo! In questi giorni nel frattempo gli Schibli Toilet hanno anche fatto il loro primo anniversario! Auguri! Eh sì è passato già un anno! Ma bandoli cianci andiamoci a vedere un attimo come era finito lo scorso episodio Perché io non me lo ricordo molto bene Qui i cameraman erano morti! Me lo ricordo benissimo! Ok ha preso la gioia di gioco lì per glicciare le porte E ok Avevano rotto i costi di vetro con dentro cuffie, armi e roba super segreta e privata Hanno utilizzato il laggeggio per glicciare la porta Hanno sfondato la serratura E il Dark Speaker Man e questo cameraman con lo strunacessi spinato Si sono addentrati in un nuovo percorso E finalmente possiamo scoprire dove sono andati nella parte 3! Allora lì da lontano possiamo vedere che ci sono già degli Schibli Toilet che si aggirano di controllo E infatti qui ce n'è uno che non si sa come non vede il cameraman E' diventato invisibile? Ma è un potere... Chi è quello? Fermi tutti, fermi tutti! Chi è quel cameraman lì dietro? E' un cameraman che ha dato il potere dell'invisibilità al cameraman con il Dark Speaker Man Ok, non l'avevamo mai visto Non sappiamo chi è ma... Già mi ha fatto casare un sacco Mentre qui... Oh, molti mi entrano prima che si chiude la porta Ok, l'hanno bloccata Oddio! The fuck boom! Ragazzi! Lo senti sto in it? Ok, si sono chiusi dentro la stanza con lo Schibli Toilet scienziato Gli stanno glitchando tutti quanti i meccanismi Ma forse è troppo tardi perché i laser stanno partendo Eh no, non può uscirselo da qua Lo stanno letteralmente bloccando E mi sa che era l'unica cosa Sarà una battaglia! Gli è glitchato anche il meccanismo Ha detto sfidami Senza tutti i tuoi aggeggi tecnologici Faccia a faccia! Sono davvero curioso di vedere che cosa succede Anche se gli aggeggi tecnologici ce li ha sempre Un raggio laser da dietro la schiena Gli è forte Mentre il Dark Speaker Man lo colpisce da dietro Guardate! No! No! Aspettate! Ragazzi, l'ho spezzato a metà Quelle sono solo le gambe Il Dark Speaker Man, no! E l'ho proprio buttato via Non ci posso credere! No! Oddio! C'è il Dark Speaker Man Nonostante sia a mezzo morto Togliato a metà È riuscito a colpirlo E a spaccare gli occhiali Vai! Pensaci tu! Lo butta via Ma lui gli butta Lo storacenzi spinato nell'occhio Ma con il laser lo colpisce No! 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 È morto il Dark Speaker Man Si è sgricciato il Mark Ingenio Ma è... Oh! Il Giant T-Man! Ti prego Fai effetto Ti prego No! No! Il laser no! Ok! Ha una forte forte energia È riuscito a scappare No! Ma dove cavolo è scappato? Cosa? Stanno tornando indietro? Oh! Madonna mia! È diventato enorme! Ma è diventato anche potentissimo! Spero che non si ricordi di noi Dobbiamo andare via! Oddio! Fermi tutti! Vediamo che c'è la Dark Speaker Woman La TV Woman È la Camera Woman Mentre lì c'è un Cinemaman Tipo Non so come chiamarlo Ma tipo È un cameraman evoluto Con una telecamera più potente Le tre tonzelle Le tre superkick Gli vanno addosso Mentre con un raggio laser Tutto quanto rosso Gli viene danneggiato Ma il cameraman si muove Talmente velocemente Che non riesce a farsi colpire Ok Adesso mi sa che l'ho colpito È stato danneggiato Ci fa un sorriso Veramente diabolico Ma Qualcosa succede Inizia ad urlare Quello è il tipico urlo Che farebbe una persona Se qualcuno gli entrasse In un sedere Secondo me Lì hanno messo qualcosa Di una suppostina Che gli ha fatto un po' E sentire del dolore Infatti tira questo urlo Ma posso capire Che cosa gli hanno fatto davvero Oddio Ah E lo sai di stoilet Che l'ha entrato dentro questo gigante Se l'ha diciamo protetto L'hanno Anzannato Ma non sono riusciti a sconfiggerlo Oh madonna Raga Stava cercando di scappare Ha aperto il passaggio Ma ad aspettarlo C'erano i tre titani E raga proprio Non voglio non lasciarlo scappare Sto maledetto scienziato Che da episodi a episodi Ci sta veramente rompendo le scatole E finalmente Forse è la sua fine Mamma mia Il titan cameraman Lo prende Ed è il momento Di farlo bruciare vivo Lui lo brucia Il tv man lo schiaccia Mentre lo speaker man Lo spegne E non gli fa niente Già già è morto Ok 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 Doveva Doveva anche sordirlo Io credo che Ok 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 Basta Basta Mi sa che è morto Basta La madonna Ok Lo ha proprio smontato Lo ha letteralmente smontato Lui si è tolto La protettura del tv man Il giant tv man Che è stato un po' danneggiato Si è trasportato E' ancora vivo per fortuna Ma il dark speaker man E' morto Oddio Si sta muovendo ancora un po' Me lo credo sia in fin di vita E infatti Ci abbandona così Ragazzi Questa E' davvero commovente Come storia Davvero commovente Ma c'è un errore di trasmissione C'è effettivamente Un cameraman Da lontano Che viene visto osservare Il tutto In disparte Credo sia lo stesso Che li ha resi invisibili all'inizio E infatti Sparisce Un nuovo cameraman Con i suoi poteri Oh Due cameraman invisibili Che si incontrano E si danno la mano Del cameraman Con delle luci verdi Che ci fanno tornare A un flashback Oh madonna The fuck boom Ben fatto Grazie a te Lo scienziato Schipidi E' stato ucciso Ma non preoccuparti Perché qualcun altro De più grande Sta arrivando C'è solo una cosa da dire Poi dopo andremo a vedere meglio la traduzione In questa battaglia Non sopravviverà Il plunger man Mi sa che è quello lì Che ha danneggiato Lo schipidi scienziato Quello lì Con lo sturacensi spinato Era proprio lui E Oddio No aspettate E' lui che sta morendo E Cosa Ah non ho capito Come Cosa gli sta succedendo Gli fa un pollicione in su Ma Viene travolto dalle fiamme E la camera Va offline Ma perché è morto Come ha fatto a ucciderlo Lui era sopravvissuto Infatti Prima di avere questa visione Lui era effettivamente vivo Ma dopo che Da fuck boom Ha parlato L'ha praticamente ucciso Non si sa come Ma gli ha fatto perdere il segnale L'ha fatto rompere Tutti lo guardano E gli dico Aspetta Cosa succede E lui era lì Inerme Dice tutto ok Ma in realtà Non è tutto ok Perché perde il segnale E muore Per sempre Qui si parla invece Proprio del Camera man invisibile Che era apparso anche Nell'episodio 70 Parte 1 Ok E non avremo dei camera man fantasmi Non si sa se sono una razza di camera man specifica O sono tipo morti Fatto sta che poi in questo modo riescono ad arrivare nel bunker Grazie a lui Invece entrano dentro la base dello scienziato Da fuck boom Dice Vuoi scappare Il mio piccolo Pedone Ti ucciderà E dopo questo Dice anche Non ci si può fidare E gli dice Addio Cioè ok Quindi a quanto pare Da fuck boom A parte Cioè è il capo Degli schif di toilet Ma E' come se avesse messo alla prova Tutti quanti loro Perché Il suo pedone Il plumber cameraman Che non si sa perché In questo caso E' un suo pedone E' andato lì ad ammazzarlo Ed effettivamente ci è riuscito Qui dice Anche se hanno vinto la battaglia Non hanno vinto la guerra Ma soprattutto non c'è stato un buon finale Infatti vediamo Il tipo manager deve sbattarsi davanti a noi Ed è molto danneggiato Si vede il cameraman Che pensavamo fosse morto Nell'ultimo episodio E ah è lui E' quello morto E' davvero triste per quello che sta succedendo Così decide di andarsene Probabilmente sa cosa succederà dopo Cioè quindi lui E' effettivamente uno spirito Che può prevedere quello che succede Successivamente poi compaiono Queste due camera nel fantasma Come vedete sono vestiti anche diversamente Hanno sotto al cappotto nero Una sorta di vestito verde E tra l'altro anche la cravatta E' tutta verde Sarà forse il vestito dei secret agent? E infatti diventano verdi anche i loro flash E sta per succedere E' una delle cose più assurde mai viste E infatti noi ce ne siamo accorti Perché ci teletrasporta In una stanza segreta Con il secret agent Possiamo vedere che sul lato destro Ha tre test di agenti Un cameraman Un speaker man E un tv man E infatti è molto strano Che lui abbia questi pezzi Probabilmente o li tiene per collezionismo O li ha presi dopo qualche battaglia La teoria E' che il secret agent Utilizzi Il suo computer di lato Per guardare i tape Che gli portano i cameraman Infatti giustamente i cameraman Registano effettivamente Quello che succede Gli portano la cassetta E lui si riguarda nel computer E quindi lui conosce Tutto quello che sta succedendo Nella battaglia Dice Ben fatto Grazie a te lo scienziato è morto Tuttavia sta arrivando Una minaccia più grande Ecco perché certe cose Devono rimanere segrete Non sono rimaste prove Tranne una cosa di questa battaglia Il plaggio al cameraman Sa troppo Della nostra base E si raga Perché è l'unico Rimasto in vita Che è effettivamente Riuscito a registrare tutto Non può rimanere in vita E infatti Lui lo ha ammazzato Ma come? Tra l'altro La minaccia che hanno fatto vedere E' la stessa Che era apparsa Nell'episodio precedente Sopra questo foglio Dove c'era lo scienziato E quest'altro schiavitore Che non conoscevamo ancora Ma adesso Tutto è più chiaro Abbiamo capito Che il secret agent Vuole rimanere nell'ombra Controllando la battaglia da fuori E gestendola Come lui vuole E infatti Dopo che il cameraman Torna la realtà Finisce di funzionare Tutti gli fanno La faccia triste Eeeh E lui si gode I suoi ultimi momenti Prima Di morire Questo episodio E' davvero Incredibile Uno dei più belli Di sempre Qui di lato Trovate altri due video Che potrebbero sicuramente Piacervi E ciao ragazzi Bye Bye